Per le interviste di Max Dialectical Studies siamo qui a Berlino nella Fondazione Rosa Luxemburg con la dottoressa Antonella Muzzupappa e con la dottoressa Valeria Bruschi, coordinatrici del ciclo di lettura del Capitale organizzato dalla Fondazione. Come è nata l'idea di offrire dei corsi di lettura del Capitale? L'idea è nata nel 2006, un gruppo di studiosi, studiose e compagni ha ritenuto necessario e interessante riproporre una nuova lettura della critica dell'economia politica che è praticamente scomparsa nelle università e si è deciso di offrirla alla Fondazione Rosa Luxemburg. Dove si svolgono questi corsi e come vengono svolti? I corsi si svolgono appunto alla Fondazione Rosa Luxemburg, vengono organizzati anno per anno e ogni anno si offre la lettura del primo libro del Capitale e quella del secondo e terzo che vanno insomma parallelamente. Ci si incontra una volta a settimana per due ore diciamo la sera più o meno. E chi segue questi corsi e per quali motivi, per quali interessi? I corsi sono aperti a tutte le persone che hanno un interesse sia politico che anche più accademico nei confronti dei temi della critica dell'economia politica. Sono corsi espressamente destinati a persone che non hanno preconoscenze del Capitale e poi diciamo che la maggioranza dei partecipanti al corso sono giovani, studenti e anche persone che sono attive politicamente. Vi sono anche dei momenti di approfondimento scientifico di queste tematiche nell'ambito di questi corsi? Sì, intorno ai corsi sul Capitale ci sono ogni anno una serie di cosiddetti satellite seminar all'interno dei quali appunto si cerca di volta in volta di approfondire un aspetto della critica dell'economia politica o diciamo un dibattito sostanzialmente intorno ai temi della critica dell'economia politica. ne abbiamo fatto ad esempio alcuni proprio sulla Noi e Marx Lecture così come per esempio alcuni sulla questione dei rapporti di genere ed eventualmente il contributo che la critica dell'economia politica può dare o no alla problematica dei rapporti di genere. È previsto un prosieguo per questi corsi di lettura? Sì, per il 2011 sono già state fissate le date dei prossimi corsi di lettura, il 28 febbraio 2011 riparte un corso di lettura del primo volume del Capitale e un mese dopo ricomincia anche il gruppo di lettura del secondo volume e un paio di mesi dopo poi partirà anche la lettura del terzo volume. E come ci si può iscrivere a questi corsi? Tutte le informazioni sui corsi si possono trovare sulla pagina www.dascapitalesim.de e appunto ci sono tutti gli indirizzi sostanzialmente mail a cui rivolgersi per le iscrizioni. Valeria ed io teniamo i corsi sul primo libro e invece Ingo Stutzle quelli sul secondo e terzo libro. Bene, a nome di Max Dialectical Studies ringraziamo la dottorissa Antonella Muzzupappa e la dottorissa Valeria Bruschi e auguriamo loro un buon lavoro. Grazie a voi.